Per me che parli noi di Domenico vuol dire che tutti hanno grandi aspetti del suo domenico, hanno capito quanto Domenico sia forte. Realmente vorrei anche ricordare che tante volte si dice che il rigore lo sbaglia e chi lo tira, vuol dire che chi ha le occasioni è perché se le ha create. Forse ci dovremmo anche domandare perché tutte le occasioni, chi ha avuto le occasioni è stato Domenico, vuol dire che Domenico forse è stato uno dei più positivi. Però sinceramente non mi piace parlare del passato e tanto meno di una cosa che mi compete meno che la nazionale. Sicuramente Domenico va da parte mia elogiato per quello che sta dando. Poi in una partita secca possono succedere tante cose. Per me Domenico è un giocatore che ha dimostrato anche nazionale di avere dei valori importanti e di essere un giocatore importante. Se no non sarebbe arrivato a questi livelli. Vorrei citare un numero significativo. Domenico se non erro, ma credo di non errare, per età è il terzo giocatore più giovane a aver raggiunto i 100 gol in Serie A. Forse prima di lui ci sono arrivati solo se non erro, poi le statistiche potranno smentirmi, Girardino e Roberto Baggio. Grazie. 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 Grazie.